Ho visto i tuoi video su YouTube, è la prima volta che ti vedo dal vivo. Allora, ho delle domande fondamentali che aiuteranno tutti qui. Tutti quanti parlano, sai, del conoscere se stessi. E il primo passo è andare all'interno. E quindi il modo per andare dentro è la meditazione. Io, per favore, non ho mai detto cose del genere. Non so chi abbia detto queste cose. Ok, allora come facciamo ad andare dentro? Dentro a che cosa? Sei già dentro alla sala. Dentro a che cosa? Dentro a noi stessi. Ok, se questa è la verità, che è il primo passo per conoscere le risposte a tutte le domande, se andare dentro è la risposta, allora come facciamo a farlo? Prima di tutto devi capire cos'è dentro, ok? E cos'è fuori. Se non capisci cos'è dentro e cos'è fuori, allora andrai in tutti i posti sbagliati. Ora, che cos'è dentro? Il tuo corpo. Accumulato in un periodo di tempo, sì o no? Quello che accumuli può essere tuo, non può essere te. È chiaro fin qui? Qualunque cosa sia. Quello che accumuli può essere tuo, non può essere te. Quindi, questo corpo è un accumulo. Quella che chiami mente, l'intero contenuto della mente, è accumulato, a seconda di ciò a cui sei stato esposto nella tua vita. Quindi il tuo corpo è un cumulo di cibo, piccolo o grande. La tua mente è un cumulo di impressioni, di nuovo piccole o grandi. Tra questi due cumuli, dove diavolo sei tu? Per cui, dentro o fuori, lascia stare queste parole, perché quando si tratta di linguaggio c'è solo un certo margine. Quindi all'interno di questo margine, magari diverse persone cercano di usarle in modi diversi. non sappiamo in che contesto le hanno usate. Tu metti tutti nello stesso insieme e dici, tutti voi avete detto questo, non so chi siano queste persone. Diverse persone hanno utilizzato diversi metodi attorno a loro. Guardando le persone attorno a loro, qual era la cosa migliore per le persone attorno a loro? E avranno agito di conseguenza, probabilmente. Se erano sincere, hanno lavorato con le persone attorno a loro. Non con concetti presi da chissà dove. Guardando a una singola persona, farai qualcosa che funziona per quella persona. Quello che fai con questa persona potrebbe non funzionare per un'altra persona. Dovrai fare un'altra cosa con quella persona. Ma tu stai parlando di un generico interiore-esteriore. Quindi, prima definisci che cos'è interiore-esteriore. Tutto è esteriore ora. Il mondo è all'esterno. Anche il corpo è materiale esterno. Anche tutto il materiale nella mente è esterno. Per cui, cos'è quest'interiore di cui stai parlando? Allora direi immediatamente, Atma, Paramatma, Anima, quest'altro. Ora stai entrando nel sistema delle credenze. Non lo sai? Tu sai di avere un corpo, sì? Per favore controlla i tuoi vicini. Sai di avere un corpo. Credi di avere una mente. Ma in qualche misura lo sai. Ma il resto lo credi. Sì o no? Non sto mettendo in dubbio che sia vero o falso. Non addentriamoci in questo. Ma è una credenza. Non fa ancora parte della tua esperienza. Se parli di qualcosa che non è ancora nella tua esperienza, parlando schiettamente, sei solo un bugiardo. Ecco cosa significa. Ma visto che le bugie sono sacre, che le bugie sono riportate nelle scritture, che le bugie sono ripetute da ogni genere di persone, vestite nei modi più disparati, che dovrebbero essere sacri, anche se ridicoli, e per questi motivi, ci si aspetta che tu non metta in dubbio queste parole. Ovunque vada, la prima cosa che la gente dice è «Sadhguru, è l'anima». Io rispondo «Quale? La destra o la sinistra?» Quindi, non parliamo di qualcosa che non è nella tua esperienza. In questo momento, il tuo corpo fa parte della tua esperienza in qualche misura. La tua mente fa parte della tua esperienza in qualche misura. Il resto non lo conosci, ma possiamo deturlo. Perché io possa accumulare tutto questo corpo, perché io possa accumulare tutta questa mente, deve esserci qualcosa di più fondamentale. Sì? Deve esserci qualcosa di più fondamentale. Non sappiamo che cosa diavolo sia. Per ora lo chiameremo te. Come farai ad andare dentro te? Ti chiedo. Puoi andare dentro a questa sala, puoi andare fuori da questa sala. Come fai ad andare dentro di te? Sto chiedendo. Vedi, lasciamo perdere tutto questo. Non è questo il modo. Fai così. Ciò che non sei tu, tutte quelle cose, tienile da parte. Oggi, prima di andare a letto, tutto ciò che non sei tu, tienilo da parte. Potrebbe essere prezioso per te. Tu pensaci, la tua casa è te? Oh, la mia casa. Va bene, hai molta passione per lei. Però va bene, tienila da parte. Tuo marito è te? No, questo è facile. Lui non è me. I miei figli sono me? O un po' difficile, ma no. Non sono me. Stanno incominciando a dirtelo. Se hanno 12 anni, te l'hanno già detto. Allora, i vestiti che indossi sono te? No. Il corpo che indossi è te? No. Tutti questi pensieri ed emozioni sono te? No. Tutto ciò che non è te, lascialo in un mucchietto a parte. Non fisicamente. Fallo solo mentalmente. Tieni tutto da parte. Fammi vedere. Ogni giorno pratichi questo. Un giorno, quando riuscirei a tenere da parte tutto ciò che non sei, ciò che sei sarà lì. Abbiamo troppe idee su cose che non abbiamo visto. Questo è un grande problema. Shankaran Pillai andò in un'azienda. Posso? Shankaran Pillai andò in una grossa azienda per cercare un lavoro. Allora, stavano cercando un direttore delle vendite, molto in gamba e lungimirante. Allora gli fecero una domanda. Qual è più lontano? Mumbai o la luna? Shankaran Pillai ci pensò e disse Mumbai. Gli dissero cosa? Mumbai è più lontana della luna? Gli disse sì. Come? Beh, riesco a vedere la luna, ma non riesco a vedere Mumbai. Quindi quello che sto dicendo è, basandoti sulla tua attuale percezione, arriverai a conclusioni sbagliate. Quindi non avere fretta di trarre conclusioni. Prestiamo un po' più di attenzione. Sei una vita di valore, che merita un po' di attenzione. Non è così? Non cercare l'attenzione degli altri. Non cercare l'attenzione degli altri. La tua attenzione non merita attenzione a questa vita? Fai attenzione a questa. Sufficiente attenzione. Tutto sarà chiaro. Tutto ciò che riguarda te lo stai chiedendo a me. Se te lo dico, che cosa avrai? Qualche parola in più. Avrai alcune parole in più. Questo non ti porterà in alcun modo più vicino alla verità. Una parola, dici parole in più, non ti avvicinano per nulla alla realtà. Avrai solo più cose da dire a qualcun altro. Questo tipo di dicerie si sta diffondendo nel mondo. Tutti sanno dove è Dio, chi è sua moglie, quanti figli ha, quando è il suo compleanno, il suo indirizzo. In ogni bhajan le persone cantano il suo indirizzo. Dov'è e come raggiungerlo? Ma non sanno un accidente di niente di se stessi. Questo genere di, come dire, ignoranza ben informata è pericolosa, sai? Se non sai, non è un problema. Se vedo che non lo so, la possibilità di sapere c'è sempre. Non è vero? Se non lo so e penso di saperlo, allora ho distrutto ogni possibilità. Quindi siamo arrivati a molte cose, sappiamo. In ogni cultura si sa qual è la natura di Dio, dove risiede, com'è l'ambiente, tutto quanto, sai? Tutti conoscono la geografia del paradiso, non è vero? Anche tu, vero? Ma non sai un accidente di niente di te stesso. È ora. È ora di prestare attenzione, perché tutto ciò che sai, lo sai solo nel modo in cui è proiettato nel firmamento della tua mente. Non sai nient'altro in nessun altro modo. Sì o no? Quindi, ciò che devi sistemare è, tu vedi tutto in uno specchio della tua mente e lo specchio è distorto. Prima sistemalo. La prima cosa è renderlo stabile, piatto, uno specchio piano come si deve, così da vedere ogni cosa nel modo in cui è. Lo specchio piano ti mostra tutto così com'è? Tutto invertito, giusto? Allora dovrai capovolgerlo. Questo richiederà molta più abilità. La maggior parte della gente non sa girare una frittata. Ora, per capovolgere l'intero universo, l'intera vita che si riflette nella tua mente, per capovolgerla senza romperla in pezzi, ci vorrà molto di più. Ma la prima cosa è livellare lo specchio, in modo che ti mostri tutto nel modo in cui è. Non in qualche altro modo. In questo momento, tutto viene visto a seconda di come sei identificato con qualcosa. Ogni identità ha distorto lo specchio della tua mente e ti mostra le cose in modo completamente diverso da come sono. La prima cosa è smettere di parlare di cose che non conosci. Niente anima, Atman, Paramatman, Dio divino, paradiso. Parla di qualcosa che conosci. E allora il desiderio di fare il passo successivo diventerà forte. Altrimenti, quando si conosce la geografia del paradiso, qual è la necessità di prestare attenzione a qualsiasi cosa?